I militari dell'ufficio locale marittimo Guardia Costiera di Martinsicuro hanno intensificato i controlli lungo il litorale di giurisdizione per la verifica delle attività di pesca ed hanno sanzionato i comandanti di tre pescherecci che effettuavano la pesca sotto costa. Le unità venivano avvistate in attività di pesca negli specchi acquei antestanti litorale di Martinsicuro, a distanze comprese tra i 60 metri e i 200 metri circa dalla costa, al di sotto dunque il limite minimo consentito di 0,3 miglia nautica dalla costa, circa 550 metri. La posizione delle unità è stata confermata dalla lettura dei tracciati dei pescherecci e dall'analisi dei dati estrapolati dai sistemi in uso al corpo delle capitanerie di porto contenenti la posizione, la velocità e la rotta delle unità. I tre pescherecci sono stati sanzionati per aver pescato in zone vietate dalle normative europee e nazionali vigenti. Oltre alle tre sanzioni amministrative pecuniare contestate per un importo complessivo di 6.000 euro sono stati contestati un totale di 18 punti sulle licenze di pesca ed altri 18 punti sono stati attribuiti ai comandanti delle unità, trattandosi di infrazioni gravi alla normativa in materia di pesca professionale. Grazie a tutti.